L'amatone, l'amatone è una deputata della Lega, ok? Una deputata navigata, insomma, nella politica, la magistratura, quindi è una che sa il fatto suo, non occupa nessun ruolo ministeriale, però la considera comunque del ministero, per carità, tanti le danno corde, va spesso al programma 5 minuti, va spesso da Bruno Vespa, che sia 5 minuti, porta a porta, ma anche in altri programmi, è una che alla fine sta al gioco, è una per me molto elegante, molto educata, molto yeah, ok? A bestia a voi, in alto di 100 mila iscriviti, attiva della campanella, mi raccomando, qua sotto per ogni aggiornamento, di cuore grazie a ognuno di voi, vado subito al sodo, l'amatone però chiede assolutamente, cioè in quanto intervenire, perché ci vuole arresto, porca miseria, almeno per quanto riguarda la sua esperienza nel campo giuridico, perché questo? Perché ci sta tutto? Vi spiego bene, allora, un politico a Roma, un politico di sinistra, dichiara ufficialmente, senza fare nomi però, comunque appartenente al gruppo PD o comunque sinistra, ma soprattutto al gruppo PD, dichiara ufficialmente, io occupo una casa da 15 anni. Cosa? Sì, occupo una casa da 15 anni. Qualche problema in merito? Allora si può dire, no? Occupo la casa. Sì, certo che si può dire, arrestate quell'uomo, arrestatelo. Bene, sembra che ci sia già un mandato, sembra, c'è un mandato comunque, quanto le ultime novità, attenzione, non notizie, poi bisogna vedere, le ultime novità dichiarano che questo politico sia pronto per essere arrestato. Non dico che c'è un mandato di cattura, ma c'è la volontà comunque di portarlo dentro e poi di processarlo. Ricordiamo la nuova legge, la nuova legge di D.L. Salis, dai 2 ai 7 anni per chi va a occupare le case e 2 anni di galera per le tutte arancioni. coloro che, chi d'accordo o chi no, vanno a occupare, tangenziale, autostrade e strade, la corsa, insomma, delle persone. Chi deve andare in ospedale, per esempio, chi ha urgenza di andare a prendere il figlio, ci sono vari video in merito, chi ha il colloquio della vita, porco Giuda. Due anni di reclusione, ma la SESI dice, no, questo è un attacco alla povertà e insiste. E insiste però anche alla Matone che deve la SESI, deve il PD, deve la sinistra condannare questa persona. Ma figuriamoci, ma secondo voi arriverà questa condanna? Non c'entra niente se la SESI o la sinistra, via! Potrebbe essere anche la Meloni. Ma secondo voi è il caso di mandare appunto i Carabba a casa sua, a casa di questo politico, di arrestarlo? Ditemi la vostra nei commenti.